Sono stati completati i lavori alla linea ferroviaria tra Caltanissetta Centrale e XIR. BRFI, Rete Ferroviaria Italiana, infatti, comunica che sono terminati i lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale e dunque si riparte con la regolare circolazione sulla Catania-Palermo, sulla Palermo-Trapani e sulla Catania-Caltagirone. Sarebbero rientrati anche nei tempi previsti per i lavori nel tratto che interessa il capoluogo nisseno. Gli interventi per un importo complessivo di più di 40 milioni di euro sono stati avviati il 12 giugno. Interessate le linee Catania-Palermo tra Bicocca e Lercara di Ramazione, linea Catania-Caltagirone fra Lentini di Ramazione e Caltagirone, linea Palermo-Trapani via Castelvetrano, tra Cinisi e Castelvetrano e infine fra Caltanissetta Centrale e Caltanissetta XIRBI. Ed in particolare sono stati effettuati dei lavori connessi al raddoppio dei binari tra Bicocca e Catena Nuova e interventi strutturali nella galleria magazzinazzo fra Bicocca e Lercara di Ramazione, si legge. Interventi di manutenzione straordinaria fra Caltagirone e Lentini di Ramazione, lungo le gallerie fra Cinisi e Castelvetrano e attività connesse alla demolizione del cavalca Ferrovia Anas fra Caltanissetta Centrale e Caltanissetta XIRBI. Questi lavori rientrano in un quadro complessivo di investimenti che consentirà di creare le condizioni, si legge ancora nel comunicato, per conseguire gli obiettivi di miglioramento dei livelli qualitativi e quantitativi del servizio, come stabilito nell'ambito dell'accordo quadro per i servizi di trasporto pubblico locale. Sottoscritto fra Regione e RFI lo scorso marzo, si precisa ancora. Tale scenario, anche grazie agli investimenti previsti dal PNRR, rappresenta un'importante opportunità per creare le condizioni di miglioramento dei collegamenti regionali.